Da dove arrivano quei soldi? Come li ha fatti? Non c'è dubbio che ha costituito la sua fortuna con i soldi di altri. Si può parlare benissimo di un patto Berlusconi-mafia mediato da Dell'Utre. Dopo la sua iscrizione alla P2, Berlusconi ha accesso a finanziamenti enormi. Berlusconi sarebbe stato disposto a qualunque cosa pur di arrivare dove voleva arrivare. Sono uno che è stato povero, che si è costruito da solo.